Allora, come posso dare al Creatore? Con la condizione che sia più importante di me, molto semplice, solamente in tal maniera io potrò dargli, trasmettergli un piacere, ossia la grandezza del Creatore deve essere più di quella che è la grandezza del desiderio di ricevere in me, per me. E' come io arrivo a questo? Attraverso il gruppo e attraverso la luce che riforma, lo studio che abbiamo e tutti questi mezzi, i tre mezzi principali, il gruppo, lo studio e come risultato di questo la luce che riforma, che agisce su di me e mi porta a me. Questo grande discernimento, comprensione, la più importante che sia, ossia la grandezza del Creatore ai miei occhi, sopra della grandezza del mio desiderio di ricevere. Che io, nella misura che ricevo la luce circondante, la luce che riforma, che agisce in me, comincio allora a disconnettermi dal mio desiderio di ricevere, comincio a sentire che lui e io non siamo la stessa cosa. Sì, diciamo io mi buccio, mi spello, separandomi da me e dal mio ego, il mio desiderio di ricevere è Dio e comincio ad attribuire di più al Creatore, in accordo alla misura dell'importanza del Creatore davanti ai miei occhi, alla mia maniera di vedere, rispetto al mio desiderio di ricevere. Questo è quello che mi porta a me nella luce che riforma. Quando io comincio già a sentirmi come colui che è attratto verso il Creatore, in questa misura io potrò cominciare a pensare nella dazione verso di lui. E la verità, la dazione a lui sarà sopra il mio desiderio di ricevere e da questo io vorrò piacere, quanto io starò in dazione al Creatore sopra il mio desiderio di ricevere, sopra i miei piaceri che prima attiravo su di me. E questo significa essere nella fede sopra la ragione. E così va la dame e avanza, più e più. Lavora sulla grandezza del Creatore attraverso la grandezza del gruppo, la connessione del gruppo, questo è chiaro, è la luce che riforma. E in tal maniera, più e più si porterà ad uno Stato nel quale, fino a che arriva all'adesione con il Creatore, ossia... Si.